Il argomento degli oneri di urbanizzazione in comune, cosa ne piaccia? Allora, è un argomento di cui abbiamo discusso già precedentemente appunto con l'amministrazione da cui ci è stato comunicato che è un'esigenza un po' che loro lo debbano fare perché non è stato fatto da tantissimi anni, quindi è una richiesta appunto proprio della Corte dei Conti. Quindi diciamo che la logica con cui viene fatto questo incremento è sensata, nel senso nell'area centrale della città vengono incrementati molto, negli ambiti più esterni vengono incrementati con delle percentuali molto inferiori e questo penso che sia qualcosa che abbia particolarmente senso e di cui abbiamo appunto una soluzione che abbiamo proprio condiviso con l'amministrazione. Magari quello che potremmo auspicare è solo che più in là viene approvata meglio è perché ci dà un po' più di fiato perché in questo momento sapete tutti quanto costa al metro quadro costruire e quindi poi questo ricade sui prezzi di vendita. Ogni ulteriore aumento appunto è un danno non solo per noi ma anche per i cittadini stessi.